Contrariamente agli schizzi, questa volta inizio dal mare. Il motivo è che essendo la parte del dipinto più importante, non voglio che sia influenzata da precedenti stesure di colore di altre parti. Al contrario, saranno queste ad adattarsi alla parte più importante. Si tratta di una stesura molto variegata di colore, partendo dai riflessi rossasti sulla sinistra, per migrare verso una tinta verde-blu scuro della pancia delle onde, passando attraverso alcuni valori intermedi di azzurro. Mi impongo pertanto di non mescolare troppo i colori, soprattutto sulla tavolozza. Sulla carta consentirò la loro mescolanza lasciando che i colori si compenetrino in modo spontaneo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vedete come, non mescolandoli troppo, i colori si continuano a distinguere sulla carta. uso una pennellata orizzontale che riproduce il fluire dell'acqua del mare. Ciò mi consentirà di evidenziare di evidenziare il movimento. Certi interventi di aggiunta di colore su fondo leggermente e evita che la giunta stessa si diffonda troppo. Attenzione, l'aggiunta deve essere sempre più densa del fondo, altrimenti si creano i cavolzioni. notate come lascio qua e la giuntamentali di carta non dipinta. Questo ha un duplice scopo. Suggerire una direzionalità e di rallentare la diffusione del colore. Quando sarà asciutto potrò decidere se eliminarle o mantenerle per lo scopo descrittivo della direzionalità subetta. smorzo l'intensità dell'azzurro con pochissimo rosso. Dopo aver fatto le due stesure di azzurro a facciate, una chiara e una scura, ora le raccordo. Ricordarsi sempre di lasciare spazi bianchi. Ora raccordo le precedenti. Più mi avvicino al primo piano e più intensifico il colore. Questo per dare il senso di profondità. Parto sempre dove il colore è più scuro perché il pennello è più carico e via via vado nelle zone più chiare quando il pennello è più scarico. Grazie a tutti. 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 piuttosto che ripassare sul colore già steso. Quando lo si fa, sfiorare appena il foglio per lasciare diffondere il colore. tecnica bagnato su bagnato. non mescolare. Non mescolare troppo i colori sulla tavolozza né sul foglio per avere stesure variegate di colore. come sempre è importante la direzionalità. Come sempre è importante la direzionalità. e la direzionalità di colore di colore di colore di colore di colore. ed inoltre deve sfiorare il colore di 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 colore Raccordando alcune aree con tratte di colore diluito, fare attenzione a non distruggere tutto, perdendo il bianco della carta. Il pennello quasi scarico è ideale per dipingere i mezzi toni delle ombre sul bianco delle onde. Ormai il colore di fondo del mare è asciutto. Traccio alcune linee descrittive del motondoso con una tinta più scura. Grazie a tutti. 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 pinto tutto attorno, così ho la giusta sensibilità per stabilire i sottili sottotoni di questa parte. Grazie a tutti. 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 Spruzzo il colore. Spruzzo il colore perché lasciando aria bianche la tinta si alleggerisce ulteriormente e non ho una stesura uniforme. Grazie a tutti. 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 Cerco di rispettare le minime variazioni di tono. Grazie a tutti. 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 Il cielo si deve dipingere sempre per primo? No. Questo è un esempio. Fondamentalmente, non esiste una regola fissa. inizio con una tinta violacea molto leggera per le parti in ombra delle nuvole e lascio alcuni spazi bianchi per le alte luci delle stesse inumidisco il foglio dove stenderò un azzurro che dovrà risultare chiaro ponga attenzione a non coprire il bianco predisposto per le alte luci delle nuvole tolgo l'eccedenza di acqua elimino le gocce di colore diluito aggiusto le nuvole lasciando qualche bordo netto e rendendo gli altri morbidi elimino lo spazio bianco nel cielo in corrispondenza della sommità dei monti memore degli schizzi fatti in precedenza dove ho alleggerito a posteriori lo sfondo per avere una maggiore profondità questa volta cerco di utilizzare colori molto tenui e non dover ricorrere ad una velatura di bianco alla prossima la prossima la prossima è Scurrendo leggermente lo sfondo in corrispondenza della casa bianca illuminata dal sole, la farà emergere ulteriormente. Introduco il freddo del blu per esprimere la lontananza. Scurrendo leggermente Intensifico il colore sulla sommità dei monti, rimanendo però nell'ambito delle tinte chiare. Sfumo la parte centrale dei monti. Grazie a tutti. 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 Per i monti più vicini mi posso permettere una tinta ocra, leggermente più calda dei monti in lontananza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come si può notare ho usato il mascherante per le alte luci degli scogli. E' più comodo, ma non è strettamente necessario. Inizio con le parti più chiare, per usare come valore di riferimento per gli scuri. Grazie a tutti. Anche per le tinte scure, non mescolo troppo i colori. per continuare, per le tinte, per le tinte, per le tinte. Per continuare a distinguerli una volta stesi. Con il colore quasi asciutto, posso utilizzare la grana del foglio. Con il colore quasi asciutto, posso utilizzare la grana del foglio per creare un po' di trama. Con il colore quasi asciutto, posso utilizzare la grana del foglio per le tinte. Nelle parti più scure uso un po' di grigio di Bane. Wow. Soknare. Grazie a tutti. 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 Come si può vedere, la mescolanza dei colori avviene principalmente in modo spontaneo sulla carta, sicuri anche del fatto che le alte luci sono protette dal mascherante. Grazie. Grazie a tutti. 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 Dipingo le ombre degli scogli principali. Grazie a tutti. 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 il soggetto. In questa fase è il dipinto che deve guidare le eventuali modifiche e correzioni, esprimendo le sue esigenze di bilanciamento e completamento. Da un certo punto di vista è la fase più creativa e meno standardizzata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La parte più illuminata dalla luce è quindi più chiara. Grazie a tutti. L'evidenziazione di qualche bordonetto guiderà l'osservatore attraverso il dipinto. Evidenziare soprattutto gli spigoli di separazione tra ombra e luce. Ricordare sempre da dove viene la luce in modo da non dipingere in ombra parti illuminate e viceversa. Grazie a tutti. 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 Cerco di dipingere gli scogli con colore diverso. Qui uso una tinta leggermente più calda. Grazie a tutti. 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 descrittivo. La pennellata in questo caso deve essere pensata e poi stesa senza esitazioni. Non deve essere troppo regolare e leggermente ondulata. Grazie a tutti. Questo tratto lo si ottiene iniziando con la punta del pennello, poi si prime leggermente e poi alzarlo per finire il tratto nuovamente sulla punta. Grazie a tutti. Uniformo questo tratto di mare con una velatura trasparente. Mi raccomando non riempire tutta la zona. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.